Buone notizie dal settore imprenditoriale nell'Alto Casertano dopo i disagi del covid e i negativi riflessi del conflitto ucraino. Un altro coraggioso imprenditore Antonino Ponticorvo investe alla grande con una nuova struttura giovane, modernissima e dunque al passo con i tempi. Non solo mozzarella di alta qualità esportata anche all'estero ma anche vini, prodotti tipici, bar e addirittura al piano superiore una bellissima pizzeria che state vedendo nelle immagini arredata con gusto. Ieri l'inaugurazione è dal Mignano. A parlarcene Antonino e Giussi Ponticorvo nelle interviste realizzate dalla nostra Rossella Sasso. Con tante aziende che chiudono finalmente una che apre. Una buona notizia dunque. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Questo è un progetto che ha iniziato mio padre e noi l'abbiamo portato avanti con tanto amore. Oggi è l'inaugurazione e quindi siamo pronti ad aprire le porte a questo nuovo stabilimento. Quanti dipendenti ci sono attualmente nella vostra azienda? Allora, oggi contiamo 50 dipendenti nella struttura che abbiamo appena chiuso e invece penso che qua arriveremo ad una 60-70 dipendenti. 30 addetti alla produzione, 20 al confezionamento, 10 in amministrazione, altri 10 tra punto vendita, bar e cose varie. E quali prodotti troverà il consumatore oltre a quelli caseari? Enoteca, formaggi, un po' di tutto. Tutti prodotti tipici. E quali sono stati i problemi ovviamente se ci sono stati nell'aprire questa nuova azienda, questo nuovo stabilimento? Diciamo un po' problemi burocratici ma fortunatamente è andato tutto abbastanza bene. Siamo con Giusy Ponticorvo a cui chiediamo comunque da dove nasce l'esigenza di aprire un altro punto vendita? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Dunque l'esigenza nasce dal fatto che la richiesta nell'ultimo periodo diventa sempre più alta ma gli spazi purtroppo al vecchio punto vendita, al miglio 25, erano molto ridotti. Per cui abbiamo deciso di progettare questo stabilimento molto più grande ed ampliare anche i servizi. Infatti qui manteniamo la legna produttiva e poi l'enogastronomia e da annesso all'enogastronomia andiamo a costruire un bar con una yogurteria dove ci sarà una specialità. Infatti faremo lo yogurt con il latte di bufala. Poi abbiamo il servizio di ristorazione, c'è una braceria, una pizzeria e il ristorante. Ed è in progetto anche un parco giochi per i bambini. Dal Vignano è tutto, Rossella Sasso per casertasera.it